Ok ragazzi, ora dovreste sentirci e tra un po' anche vedere la schermata del gioco perché siamo qui su Bombergrounds e vediamo un po' se arriva anche Alissa Eccola, mi ha invitato Alissa ci sei? Sì Ok, Alissa è qua vicino a me Oggi non saremo con la webcam perché siamo sul letto in modalità relax e quindi non ci andava di sentirci troppo osservate però ci facciamo una bella partita qua insieme a voi Ho qui sotto occhio anche la chat così vi possiamo anche leggere se ci scrivete qualcosa però come sempre annunciamo già che non passeremo il tempo a fare saluti quindi non scrivete soltanto di salutarvi perché tanto noi vi salutiamo tutti Saluto generale, vero Ali? Sì Ok, allora abbiamo iniziato Sblocchiamo i nostri eventi di oggi Vediamo se abbiamo già preso il premio Ok, questo mancano ancora 6 ore ma c'è qualcosa nel negozio Le monete, va bene, prendiamo le monete Ok, allora io come personaggio ho il pipistrello che questa volta non è nudo Ha un vestito, una skin da... cos'è? Ali un... Un abitante dei ghiacci, diciamo, del polo nord Dei schimese È così Ok Allora, che modalità facciamo? Duello io contro te oppure afferra l'anatra Afferra l'anatra Afferra l'anatra Ok Ma sei tu il team, il leader Ma io sto facendo la diretta e tu sei il leader, vabbè Aspetta Ok Allora, ragazzi ci sentite? Spero di sì, vediamo Sì, ok E... sei pronta? Siamo pronti? Partiamo Ok Non so se è a me che ci sono bloccati i commenti però non scrive più No, no, io li vedo i commenti Ci sono, ci sono Anzi, che poi dopo magari un salutino dalla webcam glielo facciamo Che dici? Giusto per... Alissa no, oggi no Vabbè Allora, andiamo Abbiamo questo scenario sempre ghiacciato Quindi io sono vestita a tema Mi raccomando Alissa Prendi tutte le anatre Tutte le anatre possibili E cerca di non farmi esplodere, grazie Allora Sì, però dobbiamo comunicare, Alissa Eh, cosa? E non lo so, però siamo... Abbiamo la fortuna di stare vicine Quindi Parliamo Allora Dove sei? Eccolo là Quante anatre hai preso? Ti è... Aspetta, una Anch'io solo una C'è uno che mi vuole smartellare Scappiamo di qua, di qua, di qua, di qua Attenta Aspetta 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 Io è vero, ho questo mossa segreta Aspetta Adesso te la faccio esplodere No, questa era della mia squadra Ops Speriamo che non... Facci cade l'anatra presa Vediamo Ma perché era apparso il mirino dell'anatra Poi invece non è caduta? Guarda questo Vai via, vai via Adesso ti... Perché mai non si sposta Allora ti faccio esplodere con le bombe Ecco fatto Ah, mi hai fatto esplodere anche a me Ah, scusa Sei morta? Sì Io però ho tre anatre Ma stanno vincendo loro Ne hanno sette Ok, sono rivissuta Vedi Ecco, a volte viene l'anatra E poi non appare Altre volte sì Non capisco Aspetta Cioè questo gioco ha ancora delle incognite per me Perché alcune cose mi sono chiare Altre non proprio Ecco l'anatra Ma tu sei rivissuta? Ah, perché qua puoi rivivere Bene, bene Guarda, ne manca una, Alissa Ce ne manca una Chi la prende? Ha vinto praticamente Loro stanno otto Noi a nove No L'abbiamo presa L'abbiamo presa L'abbiamo presa Non facciamocela rubare Dai Dai, dai, dai Uno, uno E vai Abbiamo vinto noi questo round Evviva Ok, vediamo Ma tu sei stata la migliore Sì Vabbè, ci credo Mi ha ammazzato Ma che c'entra? Quello casomai me li togli i punti Che ti ho ammazzato Ah Ma sai che forse non lo so se ci si può ammazzare Però guarda un po' Non lo so Un bel po' di punti No, perché mi hai ammazzato con la bomba Ah Che rifacciamo? Cambiamo modalità? Sì, dai Aspetta Vediamo Aspetta, io ho nove richieste di amicizia Però non posso accettare No, sedici Sedici No, io ogni giorno le declino Eh sì, ragazzi Noi abbiamo deciso di tenere nella nostra squadra soltanto la famiglia Questa è Zia Giulia 99 su 100 Dai che tra poco prendi un premio Questa è Zia Giulia Questo è Daniel Questo è papà Questa è Alissa E per ora ci siamo noi Mi suggeriscono Non so Delle amicizie Ma per ora Non c'entrano Preferiremo rimanere solo tra di noi Perché Ok Facciamo un battaglio reale Va bene Tutti contro tutti Perciò adesso posso anche uccidere E Alissa Ok Ok Ragazzi Intanto io ne approfitto Leggo un po' di commenti Oh Mi hai letto il pensiero Ci salutano Mamma Mi hai letto il pensiero Ciao ragazzi Allora Prendete le anatre Non andate fuori dalla piattaforma Sì, grazie Grazie del consiglio Ci proveremo E Fate la live Quella che dite le domande Noi dobbiamo rispondere Chi risponde per primo Viene salutato Sì Lo dobbiamo fare Ma dobbiamo preparare le domande Quindi per ora Oggi ci andava proprio Di farci una partitella A questo E intanto Di passare un po' di tempo Con voi Così vi facciamo compagnia Non so cosa state facendo Anzi Perché non ci scrivete Cosa state facendo Mamma Cosa c'è? Fratelli per sempre Ci dice Possiamo scegliere noi La prossima mappa Di Bomberground Ah Ok Perfetto Sì Almeno così Potete partecipare Allora Diteci che modalità Volete fare Che modalità Volete Che facciamo dopo E se vi collegate Magari capitiamo Comunque nella partita Insieme Anche se non siamo amici Ditemi se poi Vi vedete Nella partita Con noi Uh Lì c'è una vita Aspettate che mi curo Ok Alissa Devo curarmi anch'io Alissa No No c'è uno che ti insegue Allora Ti salvo Anche se siamo in squadra Contrari Io ti voglio salvare Eh Grazie Perché almeno Ti ucciderò per ultima Guarda quanto sono gentile Eh Sì beh certo Devo comunque vincere io Guarda che lo volevo buttare Sulla bomba Ti è Ah No vabbè ragazzi Che mosso ho fatto Ma l'avete visto? No Eh dopo Dopo riguardati la live Alissa perché gli ho Gli ho tipo frullato la bomba Proprio in testa Lo faccio ora Ah perché No no Che poi muori No 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 Non distrarti Non distrarti Camilo Camilo Vieni qua Adesso Adesso provo a rifargli Questa cosa Niente Vai via Siamo rimasti in 5 Credo Ce la posso fare Io voglio uccidere Camilo Mi sta troppo antipatico Spero che non sia Uno di voi Ragazzi Ah ma questo Quante bombe mette Oh Però ho ucciso un altro Dai Ali Tu che puoi vedere Le altre parti Della mappa Avvertimi se c'è qualcuno Che si sta avvicinando In maniera Sospetta Ok Fai il doppio gioco Aspetta Lì c'è Da quella parte Che stai andando C'è qualcuno Ok Eccolo E Camilo E Camilo È ancora vivo Allora Io mi nascondo qua Vediamo un po' Ah Oddio No 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 Sono praticamente morta Ho pochissima vita Si sta togliendo La La strada Che faccio adesso Mi nascondo nell'erba Io mi nascondo E non esco più Secondo me non mi vede Se resto qua E invece mi ha visto Oh aiuto No 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 Vai via Camilo Non mi ha visto Secondo me si Arrivava con quella Mazza puntata Guardalo È pronto per darmi Una martellata Adesso ci penso io Adesso ci penso io Tieni Ti frullo No l'ho frullata Sbagliata Vai via Ciao 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 Scappo No 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 Lo sapevo Che mi dava Questa martellata Però sono arrivata Seconda Comunque buono Dai Mi ha dato un sacco Di punti Allora Che hanno detto Cosa votano Come prossima Prossima Partita Tanto io mi prendo Di punti Allora Scegliete Sì la vedo Io li voglio dare Al koala Perché ora Me lo voglio Selezionare Perché questo Spara Con la Con la Cerbottana No Posso andare Sul bomber Pass Vediamo che skin Ci sono oggi Carina Questa delle api Però io non ho Abbastanza Diamanti Per prenderla Mi potrei Prendere Questo qua Ok Adesso scrivo Una cosa Sulla La chat E dico Però mi sa Che devi avvicinarti Di più qua Quando parli Non so se si sente Quello che dici Prova Vai Scegliete Ragazzi Ma tu la vedi La chat Sì Io sì Ho scritto Scegliete La mappa Ok Allora Intanto che loro Scelgono Io farei Una cosa Mettiamo Vediamo se Qui posso Mettere No Questo è Lo streaming Qua Posso mettere Un attimo Andiamo Andiamo un attimo In pausa Con lo schermo E così Intanto Ci Ci prepariamo Alla prossima Alla prossima Partita Io faccio L'ultima E poi vado Ok Ultima partita E poi Alissa Se ne va Ok Tu dimmi Che cosa Dicono duello Duello Io contro te Eh sì Io contro te Ok E allora Che duello Che duello sia Ragazzi Sblocchiamo Tutto E andiamo Sul gioco No Non ho sbloccato Il duello E allora Devo toglierti Dalla squadra E Possiamo soltanto giocare Con persone casuali Non possiamo fare Io contro di te Scegliete un'altra Allora facciamo Il combattimento a squadre Dai Ok Combattimento a squadre Così siamo Nella stessa squadra E dobbiamo Far fuori gli altri Ma perché Il negozio mi dice Nuovo Cosa c'è di nuovo Che non capisco Boh Forse queste skin No queste le ho già viste Queste le ho già presi Non c'è niente Ah vai di là Di là Eh eccolo Nuovo Ah c'è un'offerta speciale A 10 euro No grazie Mi preferisco i 10 euro Vai pronto mamma Va bene Sono pronta Allora Alissa Mi raccomando Se questa è l'ultima partita Dobbiamo essere brave Dobbiamo terminare Con una vittoria Ok Allora Tu tieni sempre d'occhio Anche La chat Perché se ci danno Dei consigli Almeno Li possiamo seguire Anzi Chi muore Poi guarda la chat Allora Come si chiama questo gioco Ci chiede Eleonora Gamba Corta Si chiama Bomber Ground E Collegatevi anche voi Grounds Con la S O ground Non sono sicura Io lo so Va bene Stai iniziando Alissa Alissa Hai iniziato Vieni Vieni qua Che questi Non ci aspettano mica Vai Attenzione Attenzione Aiuto Aiuto No ci sono due tigri Chi è questo Adesso gli metto Tutte le bombe qua Do Maria Brutto Attenta Questi sono tremendi Guarda Non hanno pietà No Guardate Il gattino Alissa Non c'è più Ma adesso Ti vendico Alissa ti vendico Come avete usato Come avete usato Fare del male A mia figlia Mia Figlia Non oserete Mai più Fare una cosa Del genere Al sangue Del mio sangue Ma poi questi lasciano Delle bombe Che non capisco Neanche che sono bombe Mi sembrano cose Che devo prendere Invece Se le prendo Muoglio Questo era buono Cattivo Cattivo Ok No 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 Dai No Non ci posso credere Come mi sono salvata Non è possibile Io mi nascondo qui E rimango qui per sempre Anche perché Ce n'è soltanto uno vivo Dei loro Siamo anche in vantaggio Dai allora No Allora mi faccio coraggio No Ha ucciso Sono rimasta io contro lui Io contro lui Io quando rimango da sola Mi viene l'ansia Mi viene l'ansia tremenda Ora ti faccio volare con la bomba Vai 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 No Ce l'ho fatta Grande Grande Me lo dico da sola Ma fammeli tu i complimenti Brava mamma Ho stato bravissima Vai Dai Se vinciamo questa Abbiamo vinto la Oh guarda quello Che mi ha sputato addosso Come Come osa Come osa No 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 Molto male Che è successo Alissa è uscita dalla squadra E io sono morta Ok perfetto E adesso Ma tu Ah Stai assistendo me Che non ci sono Tu sei ferma Sei ferma immobile Perché ti sei buggata Eh No Speriamo che allora Quell'ultimo tigrotto Riesca Riesca a fare qualcosa Ma tu non puoi entrare Di nuovo in partita No Ma come è successo E provaci Dai prova a fare pronto Ho fatto pronto E lascia così Lascia così Il pranzo è pronto Il pranzo è pronto Magari No vabbè Dai ma che cosa Adesso ci tocca guardare Questi che giocano No io non devo Come tu non devi No E tu non li Beh tu li guardi Dal mio schermo Vabbè dai ragazzi Ma questa cosa Non Ma lei l'ha visto Cosa nel tablet Mi sta sulla mano Tu non Voi non vedete Cosa sta facendo Alissa Ma mi sta Importunando Che significa Dando fastidio Comunque La nostra squadra È ancora viva Noi stiamo guardando Cosa stanno facendo Gli altri Tipo Legatita Youtube Youtuber Quindi questa è una youtuber Magari È una di voi E Martin Chi lo sa Però io ho sempre Le gambe di Alissa Sulle mani Che ci lo fa Eh tagliati le gambe No fallo te No no dai Legatita Youtuber Dai Legatita Youtuber Ce la puoi fare Non ce la Allora Va bene Allora intanto Sapete che facciamo Legatita Youtuber È morta Allora Allora intanto leggiamo Il canso Dice Ti posso dire una cosa Però dicela Eh sì Non dovete chiedere Vi posso dire una cosa Ditela e basta Intanto dicono Anche Alice È la mia youtuber preferita Adesso mi scarico il gioco Così posso giocare Mi chiamo Aurora Vi chiedo l'amicizia Ma ragazzi Non accettiamo le amicizie Altrimenti dopo Ci troveremo con tutta gente Che non conosciamo Allora io proteggerò Alissa Che qui è È immobile Poverina Perché è stata Buggata Dalla partita E allora Vieni qua Te Vieni qua Mi sa che là Invece di proteggerla L'ho io Uccisa No 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 Aiuto Quelli stanno per esplodere No Alice è morta Alice è il fantasma Vabbè almeno Fai il tifo per me Ali Guarda Guarda quello che sto facendo Ho spinto il tasso Sbagliato Volevo spingere Per mettere la bomba Invece ho fatto Il tornado Inutile Però 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 Stiamo messi Abbastanza bene Vediamo se Azan Riuscirà A esplodere Come si merita Vieni qua Che ti prendo Vieni 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 No È scappato qui Poi non mi piace Azan Perché mette queste bombe Troppo carine Che mi viene voglia Di prenderle Uh c'è la vita E però Sono stata Uccida Esatto Sono stata proprio Spedita Dall'altra parte Del mondo E niente Questa ultima partita Che dovevamo finire Con una grande vittoria È invece finita Con Te che te sei bloccata Che facciamo Un'altra partita Dai ne facciamo l'ultima Perché questa non valeva Dai ne facciamo un'altra Sì Dai Scegli tu Ali Quale vuoi fare Battaglia reale Una duello Non possiamo Afferra Anatra Riproviamo con le squadre Afferra Anatra Almeno più Più vite È più vite Ok è giusto Almeno così Se uno muore Non è che deve Stargli a guardare Gli altri Sei pronta Però mi voglio Cambiare animale Sei tu che non sei pronta Io mi prendo lui Aspetta un attimo Ah gli posso anche Mettere a lui Il vestito Vedi Aspetta Non fare niente Perché Che stai facendo Voglio cambiare Animale Vediamo Però devi parlare forte Perché il microfono Sta qua e tu sei là Ho messo Oh calma Aiuto Comunque ho messo l'orso Ok lo vedo Che hai messo l'orso E c'è scritto anche Che è pronto È orso Bruno È orso E beh è Bruno Mi piace farli girare Allora ragazzi Fateci sapere Se siete qui nella partita Che stiamo per avviare Allora Ma dov'è Daniel Daniel sta di là A giocare con qualcos'altro Perché chiedete di Daniel Tanto ormai lo sapete Daniel lo sapete Sta sempre a fare qualcos'altro Mi sa che sta giocando Con suo cugino A qualcosa Prima stava giocando Vabbè Anzi prima veramente Gli è venuto il mal di testa E si era preso Un occhi Mamma mia No No Che succede Ecco una Una paperina Fammela prendere Paperella Presa 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 Ah è vero Qua io non ho più il Quello che ruota Però Ho lo sputacchio Brava No Questo aiuta Mi sta buttando di sotto Vai via Brutto 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 Dove sei tu Eccoti Sono qui Oh Ecco Dai che esce Esce qui l'anatra Brava Che l'hai presa Io sputacchio a questo Come si fa a sputacchiare così Mamma no 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 Mi hai messo le bombe Provevo accanto a me Non erano le mie Sì Erano le mie Sì Sei sicura No Ecco Allora aspetta Io voglio sputacchiare a questo No ho sputacchiato Ho sbagliato Ma perché sputacchiare? È il mio Il mio animale Ha il potere dello sputacchio Che significa? Che sputa Che bello È una specie Un koala sputacchioso Guarda Questo Berkai Non ci puoi credere Ma ho preso quattro Quattro Anche io quattro Cinque Dai che ce ne manca una E abbiamo vinto Dove Eccola lì No Ma perché sputacchio Al contrario Dai Dai Dov'è che esce? Qui Presa Brava 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 Vediamo se riusciamo a resistere Finché non scade il timer No Dai Dai Non l'abbiamo persa Sì E vai Primo round vinto Abbiamo vinto Silvia Miau Alissa Anguria E Michael Ciao Ok ciao 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 Ma è questo che devono fare Ci devono Carolina Peroni Ci manda un sacco di angurie Grande Grazie E ci chiede Alissa Conosci Glitter e Candy? Io non li conosco Sono state la migliore mamma È vero Vabbè Ah e poi Qual era quel gioco Che ci hanno detto Di fare ieri Universe No no Te lo sei scaricato poi Hollywood Story Hollywood Story Dobbiamo provare Hollywood Story Però Non l'hai ancora provato Credo Vero Sì La credo un po' iniziatina Ok Vediamo se Volevo vedere Eccoci Questa sono io Ciao Nella webcam Alissa non si vuole far vedere Io invece vi saluto Dai un saluto lo puoi fare Dai Un ciao Veloce 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 Non ti vedi così eh Aspetta adesso appare Aspetta Che lì c'è un po' di ritardo Vediamo un po' Se apparirò O non apparirò Vediamo che questa live Si sta guardando in live Se gli piacerebbe Adesso Se io facessi un'altra live Magari sul gioco dei criceti Per vedere come va avanti Oppure su youtuber life Simulator Scrivetemelo nei commenti Se vi va Se magari vi siete stancati Non ne faccio altre E per oggi Mi vado a preparare Un toast col prosciutto Che va bene lo stesso No pure io No Solo io No Allora me lo vado a fare io Va bene dai Allora ragazzi Vi salutiamo Se poi partirà un'altra live Chi lo sa Non è detto di no Però adesso Vi salutiamo Alissa Che stai facendo? Aspetta Devo aspettare Lo vedi Lo vedi Tu dici di no E invece poi loro la vogliono Vabbè Vogliamo salutare? Vogliono MyCity Non so cosa MyCity Non ce l'ho No no Non credo Vi faccio vedere Che giochi ho su Steam Allora Allora Bombergounds Poi ho questo Hamster Playground Forse mamma Intenderà No Poi ho Youtuber Life 2 Ah forse Map City Eh ma non ce l'ho Adesso Adesso ho questi Io vorrei anche vedere questo Che cos'altro può succedere Abbiamo fatto solo una partita E vabbè Ah StumbleGuys Me lo dovrei scaricare Daniel ci gioca Ma io non ci ho mai giocato Non so come si gioca È tipo FallGuys Però credo Vabbè Magari dopo che mi li sarò scaricati Ci possiamo giocare insieme Vabbè Per adesso Comunque Questa live È finita Io e Alissa Vi salutiamo Saluta Ciao Saluta Con educazione Ciao E aspettate che vi voglio fare un'anticipazione No Dov'è finito Dov'è finito il mio Quella cosa Che abbiamo fatto prima Non c'è più Volevo fare un'anticipazione Su una cosa che abbiamo fatto oggi Un video che devo montare Ma non c'è Eccolo Ragazzi Ragazzi È passata una giornata Infatti io domani Compierò 28 anni Guardate Non so se Non credo che si vede però Dai vieni qua vicino a me però Alissa Ragazzi come lui D'anno nato e diventato bambino Dopo Tipo 30 secondi Allora Io domani ragazzi Compierò 28 mila anni Tu non sei un tamagotchi Vabbè Vabbè Dai speriamo Noi siamo il tamagotchi di qualcun altro È vero Tutto il nostro mondo potrebbe essere in realtà il tamagotchi di qualcuno che ci sta giocando Vero E adesso ci ha selezionato di stare in una stanza Ci ha selezionato di farci fare la live Perché questo ci faceva aumentare il livello di energia Oppure noi siamo dentro un gioco di youtuber life simulator di qualcuno che ci sta giocando È vero E poi del tamagotchi Daniel potrebbe essere stato quello lì che con 3d dovevi dargli la medicina È vero Comunque guarda ancora piange Vabbè Comunque finiamo sta live ragazzi Perché sono 10 volte che diciamo di salutarvi E quindi vi salutiamo E ciao 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 E ciao mia Dobbiamo trovare il tasto per terminare la live Che credo sia questa